L'inno di Mameli a dare il vio ufficiale al nuovo anno scolastico all'Istituto Amerigo Vespucci di Vibomarina. L'avvio delle lezioni non è qualcosa di meccanico. Qui tutto deve avere la sua celebrazione, come giusto che sia, quando a guardarti c'è il futuro sintetizzato nei volti, nei sorrisi e negli occhi di questi bambini e dei loro genitori. Il mondo cambia e cambia anche la scuola, cambiano i linguaggi. Ed è proprio ai tanti modi di esprimersi che l'Istituto Comprensivo delle Marinate ha voluto dedicare la cerimonia, voluta fortemente dal dirigente scolastico Maria Salvia e moderata dalla giornalista e scrittrice Paola Bottero. Nel presente costruiamo il futuro, diceva Proust, e mi sembra che la dirigente scolastica abbia compreso perfettamente che cosa significa fare educazione, andando oltre e andando a colmare di valori quei vuoti che purtroppo in questa società sono sempre più tangibili. A Vibo Marina anche la cantante e attrice Miranda Martino, che ai ragazzi ha voluto raccontare la sua storia nel linguaggio universale dell'amore. Chi ha amore, chi ha affetto è una persona felice, chi non ce l'ha è infelice. Diciamo che sono molto contenta di essere qui da voi, soprattutto per la scuola che è stata fatta dai professori e soprattutto dalla preside, che è una donna speciale. Io quando ho saputo dalla mia amica che cosa faceva questa scuola, ho voluto darmi il numero della preside perché voglio conoscerla, perché è una donna così. I bambini che vengono a scuola anche di sera, ma non l'ho mai sentita questa cosa e quindi mi ha talmente galvanizzato e lei mi ha detto devi venire, devi venire e io sono qui infatti per questo. Alessio Buompasso per la Cineus24